Salvini, la Le Pen ha chiesto subito le elezioni in Francia. Lei cosa chiede? Io ho già chiesto, ho ottenuto, sono strafelice, però ho chiesto un voto per andare a Bruxelles a fare quello che è competenza dell'Europa. Non mi interessano ricadute italiane, non uso il voto che ho chiesto per andare a occuparmi di agricoltura, di pesca, di ambiente, di lavoro a Bruxelles per fare ragionamenti italiani. Renzi ha stravinto, ha promesso tutto a tutti. Adesso voglio che mantenga il tutto che ha promesso a tutti. Salvini, i vostri referenti...